Primo provino di FDM dopo tanto tempo. Questo video mi da tanto da vibes di Fabio dell'Etrusca. Riparte 5.30 un Fabio particolarmente assonnato. Speriamo che non lo sia anche in campo ma ho dei dubbi. Pausa autogrill e freddino FDM. Abbastanza. Come sta andando il viaggio? Siamo ormai in metà. Sottoscritto perché tu non sai guidare. Cosa mangia FDM prima del provino? No, è sul fazzoletto. Quindi panino all'albicocca e caffè. Arrivati al centro sportivo Bettinelli Milano Football Club. FDM non so se si vede dallo specchietto, sta dormendo. No, si è svegliato, si è svegliato, si è svegliato FDM. Doppio pallone d'oro. Voglio allenarmi per capire il livello. Ti capisci meglio dal campo che da fuori secondo me. E siamo entrati. Come è andata FDM? Ti hanno dato già la roba? Andiamo a cambiare, andiamo a pettorino. E' andata anche i capri, quindi siamo cari. Uscito con la maglia FDM numero 37. Come ti senti? Dicci la tua. Espandiamo il marchio FDM in giro. amunga. ловissime.com avissime.com amικό ram Grazie a tutti 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 Grazie a tutti